Quella di stasera è un ritrovarsi in piazza con l'esaudire in questo modo la promessa che era stata fatta ai cittadini di Miranda, cioè che nei lavori di ricostruzione avremmo tenuto conto anche di un'illuminazione della piazza molto più bella e che illuminasse maggiormente la piazza. Tra l'altro sono lavori importanti anche perché la gara che ha permesso di fare questi lavori è stata una gara molto importante, ha coinvolto tre comuni, ha voluto dire un bel po' di tempo perché è stata complessa dal punto di vista procedurale ma anche il contenuto della gara ci porta ad avere nei prossimi anni, anzi nei prossimi mesi, un rinnovo completo di tutte le illuminazioni dal punto di vista della lampadina, proprio il corpo illuminante diciamo così, con un risparmio, e sono più di 5.000 i nostri punti luce nel comune di Mirandola, con il rinnovo di questi punti illuminanti vuol dire un risparmio rispetto a prima circa del 30% e questo credo sia importante sia per l'amministrazione ma anche per l'idea di utilizzare l'energia in modo intelligente.